Due persone mangiano insieme. Per farlo devono togliere la mascherina. Ecco come le goccioline del respiro si espandono nell'aria, parlando. Le immagini sono state catturate dalle telecamere della televisione spagnola, che ha usato la tecnologia dei raggi infrarossi, usata anche dall'esercito. Secondo il virologo Antonio Alchemy, questa è la prova che il virus resiste nell'aria, nelle ormai famose droplet. Le goccioline più grandi di 100 micron cadranno rapidamente a una distanza vicina a noi e contamineranno le superfici. Le goccioline più piccole di 100 micron si trovano nell'aria, dove possono rimanere a lungo. Altro scenario, l'ascensore. Tutti portano le mascherine. Comunque si può vedere l'Ariosol che producono parlando. Queste goccioline possono rimanere nell'aria anche per ore. Bisogna indossare la mascherina sempre, anche quando si è da soli, proprio perché queste particelle restano nell'aria a lungo. Arieggiare i locali è un altro elemento fondamentale. Infatti indossare una mascherina non basta, soprattutto se questa è sistemata male sul volto.